Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Tra qualche secolo, quando la gente vedrà queste riprese, chi vedrà sorridere al bordo dell'inquadratura? Con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Dio, congratulazioni. Grazie.